Eeeh, guaglioni Si fa questo, Ambo, pronto? Che fai? Che fai? Si pusha la base! Ah, ok Sono vivo! No! Vabbè, abbiamo vinto Abbiamo vinto? Ma dove è finito, Coe? Ma Coe non c'è mai stato Coe non sai come cosa sta? Scusami Ma come c***o parli al contrario? È pi greco, che c***o ne so No! Non lo so, no è pi greco vero, non è Una donna è tantissima Non lo so Vabbè, è la pi australiana Che c***o sai che è al contrario? Non lo so In algebra? Boh, 8 Que ricordo Grazie.